Gli scapigliati è uno dei gruppi più famosi di Zumona che hanno animato la scena musicale in quegli anni e se a molti di voi è capitato di... se vi siete innamorati, se vi siete voi scusate, certamente l'avrete fatto ballando e seguendo le musiche degli scapigliati che agli età delle serate nei locali di Zumona, è un gruppo denominato, non so se hai ragione al corpo, un gruppo serio, sono Pino Castricone alla Tastiena, Cingino Di Agna al Bassi, Armandino Alessandroia alla batteria, Pino Palesse, cantante, un amico di metro gigante alla città, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.